benvenuti e bentornati fratelli nel azzurri siamo qui per le pagelle le pagelle di inter parma 2 a 2 purtroppo partiamo subito con andanovic praticamente mai chiamato in causa subisce soltanto i due gol su cui non poteva fare niente incolpevole defray anche lui ha poco da fare il parma attacca pochissimo in impostazione ci prova cerca di fare ciò che può ma è tutta la squadra a non girare e sul gol dell'1 a 0 gervigno lo brucia in velocità ma non è colpa sua se gioca centrale esterno e si trova in una zona di campo in cui non dovrebbe essere sul secondo gol però in zona centrale e viene di nuovo bruciato da gervigno e questa volta è sua competenza si fa sorprendere ancora e questo qui non ha scusanti stavolta non ha davvero scusanti quindi colpevole 5 ranocchia 5 fa un buon lavoro prima su cornelius e poi su inglese facilitato dal fatto che il parma attacca poco e niente quando però prova a uscire dall'area per anticipare inglese si fa fregare e questi dall'imbucata a gervigno per il 2 a 0 ingenuo coloro 5 e mezzo è il migliore dei tre centrali stasera anche solo per l'assist che fa sulla punizione del 2 a 2 a perisic comunque sbaglia tanto quanto gli altri due ma almeno ci prova un po in fase d'attacco chiaramente con risultati non sufficienti a parte l'assist dell'utente akimi 5 e mezzo viene prima schierato alto quando anche i gorilla sanno che akimi deve partire dalla linea di metà campo ed essere lanciato in profondità per essere devastante poi viene schierato a sinistra fuori ruolo e infine sostituito insomma il donibrasco salentino che ci allena purtroppo non ha ancora capito come sfruttarlo per essere devastante incompreso barella 5 e mezzo quello che sa fare ovvero correre recuperare palloni lo fa bene ma per colpa di una stampa che lo esalta nemmeno fosse un incrocio tra simeone e snyder e un allenatore che gli chiede compiti non suoi ovvero quello di lanciare e dare palle filtranti lui ci crede davvero e fa la figura di un elefante che vuole danzare in una cristalleria vanitoso gaierdini 4 e mezzo era da un po che in mezzo al campo non si vedevano passaggi sbagliati a tre metri col suo ritorno abbiamo assistito a questo scempio quando recupera palla il 90 per cento delle volte è fallo ma non è tutta colpa sua lui è un giocatore di serie b che per delle coincidenze astrali e un allenatore con la visione calcistica di conan il barbaro si ritrova a giocare titolare in una big di serie a che punta a vincere lo scudetto serie sbagliata ericsson sei di stima causa defezioni e turnover il donnibrasco salentino lo schiera titolare chiaramente gli chiede sempre compiti difensivi commovente quando lo vediamo correre all'impazzata verso la nostra porta per fermare un giocatore del parma che stava avanzando recupero che fra l'altro gli è pure riuscito riesce anche a dare qualche palla filtrante buona come quella perisic che però si ritrova in fuorigioco ma è troppo sfiduciato ericsson per rendere al meglio inoltre quando manca lukaku e akimi viene fatto giocare alto non c'è nessuno che si muova senza palla e quindi che lui possa lanciare spesato darmian 5 corre sulla fascia in difesa fa il compitino visto che il parma non attacca e quindi ci si aspetterebbe di più in fase offensiva magari non dirribare l'uomo e crossare visto che non è capace ma quantomeno di provare lo spunto in velocità e poi metterle in mezzo invece niente inutile lautaro 5 periodo no per il toro nessuno mette in discussione le sue doti tecniche e di finalizzazione ma ha troppi momenti di down psicologico che lo portano misteriosamente a sparire dal campo per interi periodi come fu l'anno scorso a gennaio da gennaio in avanti infatti è sparito all'epoca si diceva fosse distratto dalla trattativa col barsa ora si vocifera che sia mancato insomma questo accordo sul rinnovo non arriva e quindi comunque in ogni caso non ci sono scusanti per pensazioni così scadenti dove non l'avete mai e non riesce mai a essere pericoloso assente perisic 6 fino al momento del gol del pareggio che arriva al 92esimo ricordiamolo non combina granché anzi spreca un gol praticamente fatto al terzo minuto c'è anche da dire però che gioca costantemente fuori ruolo inizia come seconda punta poi passa esterno sinistro tutta fascia infine chiude la partita come esterno destro in buona sostanza il don ibrasco salentino abusa di lui mettendolo ovunque meno che nel suo ruolo naturale che è quello di punta esterna sinistra in un 4 3 3 burattino brozovic 6 e mezzo ha il merito di riaprire la partita con un tiro strambo dei suoi lento ma preciso e sorprendente come lui del resto quindi nonostante don ibrasco ne abbia chiesto la cessione ad agosto e quindi facendolo sentire superfluo al progetto lui comunque si impegna e con lui in campo si vedono anche passaggi decenti in mezzo quindi voglioso vital 5 entra al 58esimo per dare vitalità ordine sprint e magari qualche inserimento con gol che lo hanno reso famoso no l'unica cosa invece per cui ce lo ricordiamo e si fa notare il tunnel che subisce sul passaggio di cucica inglese che poi farà l'assist per il 2 a 0 complimenti sopravvalutato pinamonti 5 e mezzo entra negli ultimi 20 minuti per l'assalto finale prova a fare qualche sponda buona ma non riesce mai a scaricarla bene su un buon cross di kororov salta anche decentemente ma non riesce a prenderla e quello dovrebbe essere il suo pane acerbo né ingola né young senza voto troppo pochi 13 minuti veniamo al nostro caro allenatore il don ibrasco salentino 4 come sempre schiera il 352 o il 3412 chiunque sa come giocheremo e può prepararci la partita contro tranquillo proprio sapendo che non ci saranno mai sorprese mette defray che è un centrale di copertura e impostazione a fare il terzo di destra e infatti viene bruciato da gervigno nel primo gol anche nel secondo riesuma gagliardini azzerando la tecnica a centrocampo schiera akimi alto togliendogli il suo punto forte che partire dal basso per essere lanciato in velocità poi lo sposta a sinistra completamente fuori ruolo e completa l'opera sostituendolo lascia fuori pinamonti che è una vera punta per far giocare perisic in attacco un ruolo che non ha mai fatto se non dieci anni fa nel wosburg e poi sempre perisic lo sposta prima esterno sinistra tutta fascia e poi di nuovo a destra in pratica non lo fa mai giocare nel suo ruolo naturale snobba completamente ningolano inserendolo al settantottesimo questi sono i suoi cambi del settantottesimo invece nei golani partite come queste dove giochi contro squadre molto chiuse potrebbe sbloccarla con un tiro da fuori invece lui niente lo fa entrare al settantottesimo incapace va bene ragazzi queste erano le pagelle di interparma mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate la campanella così vi arrivano le notifiche di tutti i miei video e diffondete agli amici fra l'altro aspetto anche il vostro commento il solito saluto vide te mox